Il nuovo 730, il modello con cui presentano la dichiarazione dei redditi la maggioranza dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, è su internet. Ecco le novità principali previste dall'Agenzia delle Entrate. Cominciamo da chi non ha il sostituto d'imposta, perché ad esempio ha perso il posto di lavoro. Anche costoro potranno presentare il 730 per effettuare operazioni di conguaglio con il fisco, avvalendosi di un CAF o di un professionista abilitato per la trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Le altre novità riguardano soprattutto le detrazioni. Aumentano quelle per chi ha un figlio a carico, 950 euro dagli 800 dell'anno scorso. Se il figlio ha meno di tre anni, sono 1220 euro rispetto ai 900 del 2013. Infine la detrazione aggiuntiva per ogni figlio disabile cresce a 400 euro. Lo sconto ILPREF per donazioni a Onlus e partiti sarà al 24% dal 19%. Buone notizie anche per chi affitta casa con contratti di locazione a canone concordato. La liquota agevolata della sua cedolari secca scenderà al 15%. Va male invece a chi ha un'assicurazione sulla vita o contro gli infortuni. Si riduce a 630 euro l'importo massimo su cui calcolare lo sconto IRPREF del 19%.